È un bando che riguarda la digitalizzazione, la transizione digitale, ci sono risorse per ben 7 milioni di euro, i beneficiari sono i comuni e daremo dei voucher fino a un massimo di 45 mila euro, quindi potenzialmente saranno molti comuni che potranno essere finanziati. Dovranno presentare dei progetti che sostanzialmente prevedono il coinvolgimento nel proprio territorio di associazioni, prologo, qualsiasi soggetto possa dare un contributo per la valorizzazione turistica ma anche dei locali commerciali, artigianali, attraverso lo strumento della digitalizzazione, quindi il web, siti internet, app. Lo facciamo perché è sempre più importante ormai collegare, connettersi e valorizzare il proprio territorio attraverso la digitalizzazione. Sappiamo che per avvicinare le distanze e ridurre i tempi, la comunicazione, la valorizzazione soprattutto del nostro introterra, ma non solo, passa attraverso la comunicazione digitale, attraverso internet e quindi la regione mette a disposizione una somma importante a disposizione dei comuni.